Agli ospedali riuniti di Reggio Calabria i rappresentanti degli 11 club Chivanis della divisione 13 Calabria Mediterranea, guidati dal luogotenente governatore Rosario Previtera, hanno consegnato al reparto di terapia intensiva una barella antimicrobica Covid. Vediamo questo servizio insieme. Importante gesto di solidarietà del Chivanis International, una barella davvero speciale per il reparto terapia intensiva. Si tratta di una barella antimicrobica. Sì, io ovviamente a nome del reparto ringrazio il Chivanis e la figura del Presidente ma anche dei soci qui presenti per questo gesto importante. Sicuramente questo tipo di barella per noi è molto utile perché è una barella che attrezzeremo poi con ventilatore, con monitor che utilizzeremo e utilizziamo nel trasferimento dei pazienti sia per indagini diagnostici ma anche per altri contesti. Quindi era una cosa importante, avevamo già altre attrezzature per cui quando sono stato contattato dal dottor Privitera mi si chiedeva di che cosa avevamo bisogno. Abbiamo pensato appunto a una barella che è un presidio molto utile per noi. Il Chivanis, come nella tradizione dei club service, durante tutto il periodo dell'emergenza coronavirus ha attuato una serie di interventi di solidarietà. La rete del dono. Sì, anche qui in provincia di Reggio Calabria con la divisione 13 Calabria Mediterranea, tutti gli 11 club hanno operato attivamente, non si sono fermati nemmeno durante la pandemia, proprio con tutta una serie di attività sul territorio, dalla raccolta fondi alla raccolta dei generi alimentari. Nello specifico abbiamo aderito con forza al service nazionale Doniamo un respiro che ha previsto l'acquisto di materiali e attrezzature sanitarie per gli ospedali covid di tutta Italia. E quindi con il distretto, il suo governatore Maura Magna e tutte le divisioni come la nostra abbiamo proceduto anche per il grande ospedale metropolitano con l'acquisto di questa barella antimicrobica covid per il reparto di terapie intensive e anestesia. Il service non si ferma, continueremo anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sia con la raccolta fondi che con le altre attività statutarie e normali di service del Chivanis in tutta Italia.